Ciao Cici, bentornati sul canale, qui è Nemir e oggi, oggi sì, oggi è l'8 ottobre 2021 che marca la data di uscita finalmente del set Pokémon Celebration o Gran Festa, come si chiama in italiano. Quindi sono qua oggi per farvi un unboxing, un po' di spacchettamenti e ho pensato di farlo con questo big boy, questa bestia, ovvero il set, come a cazzo si chiamava, Prime Collection, Celebrations Prime Collection, ovvero Gran Festa Collezione Prime. Questo box qui in Inghilterra è esclusivo della catena di negozi videogiochi Game, l'equivalente inglese di GameStop e non penso sia disponibile in Italia questo prodotto, però se mi sbaglio fatemelo sapere nei commenti e nel caso fatemi e fatemi sapere a tutti dove si può trovare in Italia. Comunque, questo è la bestia, è scatola di cartone, sul retro ci sono scritti contenuti che non vi starò a leggere perché tanto andiamo ad aprirlo. E niente, sono molto contento, sono molto eccitato dall'idea di questo set perché è il 25esimo anniversario e un po' come alcuni di voi che stanno guardando questo video ero lì fin dall'inizio, essendo ultra trentenne ormai, quindi andiamo a vedere cosa contiene questo box. Ok, eccoci qua con il nostro box, come vedete occupa praticamente tutto il tavolo. e niente, Pokémon Training Car Game, Celebration, Prime Collection, come vi ho detto sul retro c'è la lista dei contenuti ma è inutile che stiamo qui a perdere mezz'ora a leggere che tanto fra un secondo vediamo tutto quello che c'è dentro. È chiuso con lo scotch, direi non molto elegantemente ma ce ne faremo una ragione. Questo box costa, intanto per darvi un po' di indizi, di informazioni, costa 50 pound ovvero, non so, 55, 60, 60 euro più o meno e non capisco già come cazzo si apre. Ok, c'è da togliere lo scotch anche sui bordi qua. Forse, già facciamo. Come dicevo è esclusivo della catena Game, quindi sono gli unici, l'unico negozio in Inghilterra che lo vende, ma dovrebbe contenere cose di altri, che si trovano altrove, ok? È solo una collezione. Allora, iniziamo subito e c'è un volantino, ok? Train On, Pokémon Prime, quindi ci spiega cosa sono i Pokémon Prime e in questo caso appunto c'è questa riedizione in versione Prime di Dragapult un volantino che non so bene che cazzo ce ne facciamo, però Allora, iniziamo da questa, dalla moneta Moneta Un disastro, ho fatto un disastro Non è possibile, ok? La tiriamo via, ok? Eccoci qua, abbiamo una monetona gigante di Pikachu Non so, via, se qualcuno di voi colleziona monete, ma eccoci qua Poi abbiamo, prendiamo questa roba che tanto si è già mossa Qui non c'è niente Abbiamo tre buste di Celebration, quindi di Gran Festa Una busta di Chilling Rain, che è regno glaciale Una busta di Vivid Voltage, che è un voltaggio sfolgorante Abbiamo il nostro Dragapult Prime Molto, molto, molto fico, mi piace molto Hanno usato la Cosmolo, classica delle Prime Ed è una promo, questa qui è Sword and Shield 132 Molto, molto fica E poi abbiamo un codice per sta roba, che ve lo regalo Più veloce, se lo piglia E fatemi sapere nei commenti sotto al video Cosa sbustate da questo codice Ok, quindi abbiamo il nostro Dragapult Prime E delle buste, che dopo andremo ad aprire Poi continuiamo a vedere un po' cosa c'è qua Abbiamo un mini raccoglitore Di che cazzo? Ah, ok, perle Jumbo O quelle che la Pokemon Company chiama Oversized Quindi un raccoglitore per tutte le vostre Jumbo Che a me non interessa Poi abbiamo un altro mini raccoglitore Invece di dimensioni normali per le carte Ci sta con Dragapult Train On, 25esimo anniversario Abbiamo delle Jumbo Chiaramente Abbiamo Mimikyu Delta Species Ok Abbiamo Light Electricity Figo, Cosmolo Molto bello I Dragon Sea Ok E il Dragapult gigante Anche questo Prime Ok, in realtà Sì Non è che mi facciano impazzire le carte Jumbo Però, vabbè Ci sono E poi cosa abbiamo? Dovrebbe essere Finito Quindi questo Possiamo levare dalle balle Abbiamo questo Packed with Pokemon Treasure Ok Questo qui è il box di latta Il Team box Non so Questo qui Dovrebbe essere venduto anche in Italia Separatamente Che adesso andiamo Forse Ad aprire Avevo un coltellino Da qualche parte Qua vediamo di non Rovinare tutto Se ce la faccio Difficilissimo Ad aprire Ma guardate L'ho appena buccato col coltello Ci riproviamo Ok Ora dovremmo essere Ok Qui abbiamo questo Quello che in inglese si chiama Lunchbox Quindi il La scatola per il Per il pranzo Molto carina Del venticinquesimo anniversario Abbiamo Gli starters Abbiamo la stessa cosa A tutte le parti In pratica È il classico Train on Con lo slogan E il Pikachu Venticinquesimo Oh Attenzione Questo è interessante Abbiamo Queste belle promo Quindi la versione Normale Delle Delle Jumbo Che abbiamo appena visto Più un'altra Moneta di Pikachu Gigante Ancora Che non ce ne facciamo Ok Non ce facciamo un cazzo Vediamo se riesco a tirare fuori Queste promo Senza Senza rovinarle Mettiamole Qua Uh Questo qui È un po' Tosta Quando impareranno A metterle per bene Sarà Sempre Troppo tardi Ho sempre una paura Fottuta Quando c'è da togliere Queste carte Da qui dentro E infatti Questa non riesco A toglierla Sempre paura di Ok Via Ok Iniziamo con High Dragon Che è forse Il più brutto Dei tre Non è che mi faccia Mi faccia proprio Impazzire Per OSP Dell'allenatore Ok Molto carino Comunque Oh Questo qui abbiamo Light Toctricity Eh Il light Di questo In questo formato Vengono dalle Neo Destiny Neo Destiny Sì Neo 4 È molto figo Questo Con gli oddish Che fa la luce Fighissimo Questa forse È la mia preferita Fra quelle che abbiamo visto Oltretutto Sto notando adesso Che c'è scritto Questa carta Non può essere utilizzata In torneo Non è Non è legale Per il gioco Organizzato Ma Chi cazzo gioca Con i Pokémon Non si sa Perché il gioco Fa cagare Oh Bellissimo Mimikyu Delta Species D'acqua Fighissimo Anche questo Non è molto centrato Ma Non mi interessa E niente Col bordo dorato E La foilatura Sul bordo E sulla carta Cosmolo Molto 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 Ma ci sta Bene Poi Cos'altro Abbiamo qua dentro Abbiamo Dei pacchetti Random Stili di lotta E Ancora Ancora questo Qualcosa Sfolgorante Molto bello Abbiamo Dei pacchetti Quanti Quattro Ottimo Cinque Un 6 Cinquesimo Anniversario Block Block notice Inutile Al solito Un mini Mini binder Del 25 Veramente ne hanno fatte Di ogni E sul fondo Abbiamo un volantino Che ci spiega Ci spiega La meccanica Dei light pokemon Dei delta species E degli sp Ok Ci sta Perché Ci sta che Un ragazzino O comunque qualcuno Che è entrato Nel lobby Da poco Non conosca Questi Queste vecchie Versioni Di carte Ok Quindi questo qui È tutto A livello Di contenuti Ora però Abbiamo Un po' Di cose Da aprire Qua Perché Allora Vi Lasciamo stare Questi Che non gli frega Un cazzo Nessuno Di cosa c'è dentro Poi li aprirò Con calma Quello che abbiamo Qui sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sono solo 9 Sì 9 pacchetti Di Celebration Ovvero Gran festa E sono molto Molto curioso Di vedere Cosa Cosa c'è dentro Come sono fatti Sono 4 carte Per pacchetto Quindi dovremmo fare Abbastanza in fretta Vediamo un po' Come Ok Sono aperti Dal Da dove lo apri Si vede già Cosa c'è Come facciamo A fare Uh C'è un codice In ognuno Ok Codice per voi Allora Celebration Gran festa Vediamo un po' Abbiamo Cosmog Ok Poi abbiamo Groundon Ok Here comes Team Rocket Molto figo Questo qui Mi piaceva un botto C'ha la fogliatura Ah ok Ah uh Ok 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 Questo qui È zigrinata Molto figo Più c'ha la fogliatura Tipo McDonald's E in fondo Abbiamo Lunala Ok Non male Non male Quindi questa qui È una ristampa Quella del Quella del Team Rocket Quindi non capisco bene Come sono Messe Dentro Continueremo Abbiamo ancora Cosmog Uh Reshiram Fighissimo Molto figo Molto molto figo Abbiamo Palkia E in fondo Abbiamo Zashian V Ok Poi abbiamo Il codice Giustamente In fondo C'è sempre Il codice Mi ricorderò Ok Questo Zashian V Illustrato Da Arita Se non sbaglio Esatto Molto Molto figo Ok Non sono Un grandissimo Fan di Zashian E Zamazenta Ma Illustrazioni Di Arita Non Non dico Certamente Di no Allora Vediamo di Di fare le cose Fatte per bene Vi do il codicino Al solito Continuate a farmi sapere Cose sbustate E poi Le giriamo a caso Perché non c'è Un Un metodo preciso Iveltal Xerneas Quasi più bello Di Iveltal Urca Troia Molto molto figo Mega Raiquaza Iex Quindi con È molto strano Perché hanno questa Foilatura Tipo le carte Provo del McDonald's Però Sono anche C'hanno Il rilievo Non so Un cazzo Di E poi Abbiamo Il professor Oak Che quando è uscito La gente pensava Stesse fumando In realtà No Sta scrivendo Professor Research Che Fa esattamente Quello che faceva La carta del professor Oak Nel set base La differenza Che questa Ne puoi usare Solo una All'epoca Ne potete Usare 170 70 In un turno Ok Andiamo avanti Mi piacciono molto Queste carte Devo dire Prima di Xerneas Che abbiamo già visto Vi do il codicino E via andare Ok Xerneas Reshiram Che abbiamo già Tutte e due Cosmo Che abbiamo già Oh Pikachu grasso Quindi questa qui È una full art O meglio Un extended art Del Pikachu Originale Illustrato Da Mitsuhiro Arita Nel set base E Niente Semplicemente Ha rifatto La stessa illustrazione Però ce la fanno Vedere tutta Sto giro Molto figo Ci sta Ci sta Ci sta Quindi La carta No Non so anche dire La carta Speciale In fondo Non so se è speciale Perché in realtà Sono tutte Sono tutte rare Quindi è difficile Dire se c'è Una carta Speciale Però Vabbè Codice E Partiamo con Graudon Che abbiamo già visto Chiogre Che non avevamo ancora visto Molto figo Sono dei tizi Del team Acqua Non vorrei sbagliarmi Che ci nuotano intorno Fighissimo Uh Ok Luxray Livello X Anche questa È Una di quelle Fatte con lo stile Vecchio Anzi Un ristampone È questo Da 2009 Molto figo E Abbiamo Flying Pikachu Ah C'è differenza Queste qui Sono in rilievo Queste No Ok Questa qui È una Diciamo Un remake Del Flying Pikachu Originale Ci sta Ok Non Non male Non male Non ci sono state ancora Le bombe Cosiddette E non è detto Che le troveremo Per carità Codice Però Allora Abbiamo Dialga Reshiram Oh Oh Fighissimo Ok Sono Oh È veramente Spaziale Ottimo E poi abbiamo Surfing Pikachu Che È Insieme al suo amico Flying Surfa E flya E flya Nel senso Vola Ottimo Ultimi Tre pacchetti Vediamo un po' Cosa Ci riservano In realtà Ho comprato Molto più C'ho altre Altri box Da aprire Ma Quelli Me li apro Per i cazzini Volevo solo Farvi vedere Questo Che non esiste In Italia O almeno Questo Uh Ok Abbiamo Lugia Quindi che va Insieme a Oh Oh Attenzione Attenzione C'hanno L'artwork Fighissimo Ok Spaziale Spaziale Ok Zekrom Che non mi ricordo Se l'hanno già visto Mi pare di sì E poi abbiamo Rocket Zapdos Direttamente Dalle gym Challenge Gym Heroes Non mi ricordo Se è il Il logo Nero O bianco Quale rappresenta Delle due Comunque Molto Molto Figo Oh Abbiamo la Full Art Del Professor Hawk Quindi Quella che abbiamo Trovato prima Però nella sua Versione Estesa Full Art E tutte queste Storie qua Non male Non male Ottimo Io vorrei trovare Blastoise Però Sicuramente Mi interessa Poco Di Charizard A me interessa Blastoise E New Devo essere Sincero Se poi riuscissi Ad aprirli Questi pacchetti Sarebbe anche Molto Molto Meglio Celebration Codice per voi Ok Abbiamo Iveltal Cosmog Professor Rock L'impostore Minchia Guardate Come cazzo Si luccica Questa La luce Molto Figa Ok Questa Era anche Questa Del set Base E poi Abbiamo Sol Galeo Che ancora Non mi pare Avessimo trovato Non male Ok Ultimo Pacchetto E poi Basta Perché Direi che Vi ho tediato Abbastanza E sono sicuro Che anche voi State aprendo Come i dei matti Oggi Codice Vediamo un po' Cosa sono le ultime Quattro carte Abbiamo Iveltal Dialga Zekrom Oh È mio È mio È mio È mio Non è la versione Golden Tutta bella Shiny Letteralmente Shiny È quella versione Ma è la versione Normale Ma mi pare Mi pareva giusto Trovarlo Dato che è il mio Pokemon preferito Ok Ok Direi che abbiamo Aperto tutto Abbiamo qua Anche Le promo Che abbiamo trovato Dentro Più Le mille Jumbo Che non me ne faccio Assolutamente niente Però direi che Questo è tutto Bon Direi che questo È tutto per oggi Grazie per aver visto il video Al solito Siete benvenuti A lasciare un like A iscrivervi al canale Fatemi sapere nei commenti Cosa state sbustando Di questo set Cosa avete trovato Di cosa Cosa volete sbustare A tutti i costi Qual è la vostra carta per video Fatemi sapere Quello che volete E niente Vi lascio Quassù Un paio di video Del canale Da guardare E noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti cicci E noi ci vediamo alla prossima